Con mollico senza aroma, è pronto, venitela a vedere. Vieni, vieni, ti faccio aprire quanti è bello. Eccola qua, guardate che emozione. Con mollico senza aroma, è pronta, è questo e grazie a voi. Questo sarà il nostro banco dove vi faremo tutti i panini. Vieni, vieni, quattro salumieri che faranno i panini tutto il giorno. Mamma, che bello. Le magiche olive con le mando, il caciocavallo, il tarallo sbriciolato, tutte cose che facciamo trovare. E qua dietro cosa fai? Questa è la vostra azione di Delibero. Con l'applicazione potete acquistare il nostro panino e vi arriva a casa vostra. Viete a vedere quanto è bello. Eccolo qua, il nostro logo azzurro, io e Steven. Mamma, che bel negozio che è uscito. Bellissimo, fantastico. Sei felice? Sempre, troppo. Ho un'emozione particolare. Ogni volta che si apre un locale è sempre più bello. Quindi si apre domani? Domani alle ore 11 siamo aperti a pubblico. Potete acquistare il vostro panino. E ricordatevi che vi regaleremo un gadget. Mi hanno detto anche che ci sono paninazzi nuovi. Assolutamente, abbiamo aggiunto due o tre panini nuovi e ve li faremo provare. Ma Donato, ho visto che nel magazzino ci sono 5.000 bottiglie di acqua, come mai? Domani la devo regalare a tutti quanti. Non badiamo a spese. Fin domani chiunque passerà di quattro vacce, faccio un saluto, eh. Regaliamo l'acqua a tutti quanti. L'acqua di Comunico Senza. Mamma mia, come è saluta. La magia è questa? Wow, favoritissima. Comunque il locale è uscito veramente bene. Sono super, super soddisfatto. E non vedo l'ora di svelarvi quale sarà il quarto Comunico Senza. Tutto questo, ragazzi, come ha detto Donato, è possibile solo grazie a voi. Non bastano i soldi, non basta il lavoro di Donato, ma serve l'anima e il cuore che voi ci date ogni giorno, dimostrandoci il vostro affetto. Quindi sempre grazie a voi che ci seguite. Grazie ragazzi, grazie. Ci vediamo domani a Roma dalle 11.00. Ti aspetto. Ciao. Ragazzi, mancano 5 minuti alla vettura, ma non è venuto proprio nessuno. Che emozione, fratello. Bellissimo. Auguri. È bellissimo, vai. Il primo panino. Il primo panino, facciamo un doppio strato. Vai. Il primo panino di Roma. Allora, uno. Doppio strato, panino Max. Mamma mia, che bella. La stracciatella di bufala. Fantastiche olive con le mandorle. Le più. Le più amate di bufala. Vai giù. Salame napoletano. Questo è il doppio strato, signori. Doppio strato, stracciatella, olive con le mandorle, le più amate dagli italiani. Salame Napoli e la fantastica mozzarella di bufala. Eccola qua. Ci sei? Che bella. Mi ha fatto venire fame. Eccola qua, amore. Doppio strato. Il primo panino di Roma. Il primo panino di Roma. Ecco. Sono quasi le nove e c'è ancora tanta gente. Come un semplice lavoratore sto qua dall'inizio fino alla fine. Questo forse sarà il mio successo. Il mio essere grande lavoratore. Grande fratello. Grazie, amore. Grazie. Complimenti. A voi vi ricordate quando facevo i diritti a Samulel? Che parlava di Alice Salate che faceva buon anno a mezz'Itimo. E' un'unità ma i compagni non s'hanno stato. Luigi era tornato annunziato e è venuto fino alla Torre Greca e mi ha portato una bella boccaccia a Alice. Sotto il sale e fa esse. Ce l'hanno imparato pure a esse, i parenti suoi. Vedete? Questo è il bello, è la cosa bella che è nel primo. E quando io ho sentito che tu hai detto che ti faceva buon anno a me e mi mangia da tanti anni. Cioè tu mi canta, dici, hai portato il tuo aglio, che poi vi farei i video che sono mangiato a Samulel? Eh sì, sì, se poi si sciacchino, se si sciacchino, se fanno la ripiglione un po', poi faccio per lei. E non ci sentiamo a fare solo a Samulel perché è il bello che noi teniamo. Vanno detto e commentato e Alice Salate, non dà Samulel, va pure a mangiare. E siamo due torresi, Annunziata e Torre del Greca. Le due torri, l'unione delle due torri. Ciao, un bacio! Ragazzi, allora, sto ricevendo molti commenti, messaggi che non vedete Nonna Enza nei video. Allora, Nonna Enza momentaneamente non sta da noi. Sto leggendo molti commenti che Nonna Enza sta in ospedale, ed è vero, si sta in ospedale, per farsi alcuni controlli. Non entro nello specifico perché comunque voglio rispettare la famiglia. Ma Nonna Enza ritornerà da noi più forte di prima. Da poco sto tornando dall'ospedale. Sta bene? Appena Nonna Enza ritornerà da noi struttura, ovviamente io non vado nell'ospedale a fare i video nell'ospedale, assolutamente no. Appena ritornerà da noi, le prime persone a salutarvi siete voi. Grazie a tutti comunque che vi informate, chiedete e io vi aggiornerò nel seguito delle giornate come sta Nonna Enza. Il mio amato salvadanaio, Uka Ruseidu. Erano gli anni settanta. Quanti di noi ricordano il tintinio delle monete e la gioia di trovarne tanti all'interno? Che fascino! Quante emozioni! Un viavai incredibile. Apri, chiudi, prendi, togli, nascondi la chiave. Era in ferro, in metallo. Con una fessura lineare per le monete. E un assenicerchio per le banconote. Si apriva con una chiave attraverso una porticina sul fondo. Ed era bellissimo trovare tante monetine. Il mio borsellino porta fortuna e pronti per giocare a tombola. Caraca, ero finito video. Lo vedete? Mamma mia! Comunque basta un ciappa. E un ciappa fresca. E un ciappa. E un ciappa. E un ciappa. E un ciappa recreata. facciamo aprire un pochino in due ruote allora le ruote sono le sanzoni, non puoi fare rite andate qua, ora le ruote e le faccio aprire ora rite, le metto in due forne se stanno chiusi e si può crescere e due ora rite chi si ce l'ha già cotto, vada da caccia da fuori, vada da caccia da non ti è cresciuto è un babba amore, auguri sono quattro anni oggi eh sai che ti ho fatto un bel regalo? andiamo a vederlo? andiamo, vieni siamo diventati cartoni animati io e te and you look into my eyes and make me feel like I'm divine ooh you make me better signori buon giorno, bella gente sono venuta a prendere le cacciofle dalla mucela che mi ha torturato tutta la mattina guardate qua la signorina qua a dia la ce l'ha fatto guardate quante quell'oro stanno andando uuuuuh e c'apparello bene dove ve ne andate si crede? a mangiare da donato che stai facendo le 10 ce l'ha fatto? ti sposo eh? si da dove le dite? io sono siciliana, siciliana e quartieri spagnoli un bacio a tutti quanti voi buona domenica delle balle uuuuuh buona sera la domenica sera buona sera la domenica sera siamo sempre soli come tutti quanti voi in casa mi voglio fare una cosa aspettate buona sera buona sera buona sera siamo tutti qua sta pure Annarella e tu qua voi siete pronti per un programma a Milano? si stiamo arrivando stiamo organizzando stiamo organizzando un programma a Milano ragazzi però non si dice cosa voi dici voi dici un bacio e vi aggiorniamo a voi con me Milina ciao